caro Dave ho finalmente beccato l'ultima nostra sposa che chiaramente io non posso starti aspettare, non posso aspettare che tu fai la lavatrice, che fai il rammendo e che ti metti i bigodini, mi spiace, mi spiace, come possiamo risolvere questo problema con il tuo futuro marito? Le farò fare a lui la prossima volta, i bigodini, i bigodini senti come ti chiami? Marica, Marica arrivi da dove? Marmirolo, ho paura di farti questa domanda me la lasci fare, ti sposi per amore, sesso o per soldi? Per amore, ragazze, aspetta che chiedo le amiche, ragazze, allora la vostra festeggiata ha detto che sì, io le ho chiesto una domanda, guardate la telecamera, ho chiesto, ti sposi per amore, soldi o per sesso? Sapete cosa mi ha risposto? Sesso! Guarda la foto e ti spesso, per amore? Per amore? Allora io ho una così, allora voi potete rimanere, ma io ho una così la devo buttare fuori, vero? Dave la buttiamo fuori? Sarebbe da buttare fuori? Io la butto fuori eh, ragazze, mi tieni in mano, mi tieni in mano microfono, mi tieni in microfono, saluta i ragazzi, la butto fuori. Ciao ragazzi, stasera siamo noi le nuove vocalist del convento, ciao ciao! Ciao ragazzi, ragazze, ragazze, ragazze! ciao Grazie.